Vorresti fare un'esperienza all'estero utile anche per la tua crescita? Pensi che l'Europa sia una grande opportunità e non vedi l'ora di scoprirla? Sogni qualcuno che sostenga il tuo talento nel campo della musica, del cinema o al servizio degli altri? Allora, l'Agenzia Nazionale per i Giovani è quello che fa per te. Siamo l'istituzione italiana voluta dall'Unione Europea al supporto degli under 30. Sosteniamo la mobilità europea e la realizzazione giovanile. Come? Ogni anno muoviamo da casa migliaia di giovani per formarsi, apprendere, conoscere e fare esperienze in un altro paese dell'Unione Europea al fine di acquisire competenze spendibili sul mercato del lavoro. Dal 2007 si sono spostati con noi oltre 3.000 ragazze e ragazzi e più di 50.000 sono stati coinvolti in progetti europei. In altre parole, ci occupiamo dell'educazione non formale e informale dei giovani tra i 13 e i 30 anni e nel periodo 2014-2020 lo faremo grazie al programma europeo Erasmus Plus, capitolo gioventù, di cui siamo ente attuatori in Italia. Riusciremo a portare a termine i nostri impegni? Il lavoro che abbiamo svolto in passato è una garanzia. Nel precedente mandato europeo abbiamo impiegato il 99,8% delle risorse a nostra disposizione. Per esempio, se hai almeno 17 anni e non hai superati 30, ti aiutiamo a vivere la tua esperienza di volontariato per un periodo fra 2 e 12 mesi, dando il tuo contributo attivo in progetti su cultura, gioventù, sport, assistenza sociale, patrimonio culturale, arte, tempo libero, protezione civile, ambiente, sviluppo cooperativo e altro ancora. Ti aiutiamo e ti diamo assistenza nel trovare l'esperienza che fa per te. Non ci fermiamo qui. Partecipiamo al processo di dialogo strutturato tra l'Unione Europea e i giovani dei Paesi membri. Creiamo e miglioriamo partenariati tra istituzioni e organizzazioni nei settori dei giovani, dell'educazione, della formazione e con il mondo del lavoro. Grazie ai progetti come Sport Modello di Vita, Menea Day, Premium Fair Play, promuoviamo lo stile di vita sano tra i giovani, fatto di sport e alimentazione equilibrata. Abbiamo a cuore le tematiche di interesse sociale. Aderiamo infatti alla campagna Un Posto Occupato, in difesa delle donne vittime di violenza. Sediamo al tavolo interistituzionale No Hate Speech Movement, contro l'odio e rete, e promuoviamo iniziative a favore della legalità e della lotta alla mafia. Per i giovani c'è tanto da fare in un'Europa sempre più grande da esplorare, con abitudini e culture diverse da conoscere, per aprire la mente, migliorare la consapevolezza di sé, costruire il proprio avvenire. Creiamo collaborazioni e iniziative con le istituzioni e le associazioni locali per supportare politiche in favore dei giovani. Raggiungiamo anche e soprattutto i territori più svantaggiati perché tutti i giovani abbiano la loro opportunità. Vieni a conoscerci nei numerosi incontri che organizziamo in tutta Italia per scoprire le nostre attività e le occasioni che l'Europa ti offre. Seguici su www.agenziagiovani.it e sui nostri canali social e sarai sempre aggiornato su bandi, iniziative e nuove occasioni. Noi di Agenzia Nazionale per i Giovani ci siamo per accompagnarti. Il tuo futuro parte adesso, non perderlo!